Mattarella sembra intenzionato a sciogliere le Camere entro la fine dell'anno e quindi si porrebbe votare tra il 4 e l'11 marzo, cosa che voi avete sempre chiesto. Però questo mal si sposa con la sentenza su Silvio Berlusconi e porrebbe arrivare tra 6 milioni. Il diritto al voto di 65 milioni di italiani, 60 milioni di Italia e 5 milioni all'estero prescinde da questo o quel candidato, da questa o quella sentenza. Prima si vota meglio è, se le Camere ormai inutili si erano sciolte prima di Natale sarà il miglior regalo per gli italiani. E se si vota entro metà marzo vorrà dire che finalmente avremo una Pasqua veramente di liberazione e di resurrezione. Quindi conto che il voto sia il prima possibile. Si paventa lo spettro di una manovra correttiva a maggio? Qua sicuramente il PD sta giocando con il futuro degli italiani, sta rimandando i provvedimenti scomodi di mese in mese, di anno in anno. Noi siamo pronti a dire i sì, a dire i no, a essere seri. Noi presenteremo agli italiani la situazione che è, senza false promesse, però convinti che sul mondo del lavoro, delle tasse e delle pensioni si possa solo migliorare. Quindi prima si vota meglio è e io mi propongo di guidare un governo che starà in carica dieci anni, non dieci mesi o dieci giorni ma dieci anni. Noi abbiamo la prospettiva per l'Italia per i prossimi dieci anni e gli amici del PD staranno alla finestra per dieci anni. Ecco, una domanda così. Le elezioni si avvicinano e per quanto riguarda la Lega Nord, candiderete Umberto Bossi? Noi candideremo tutti quelli che condividono il progetto del Movimento, che è un progetto che parla a 60 milioni di italiani, che è un progetto che mi porta sabato a essere a Cagliari, settimana prossima in provincia di Caserta, la settimana dopo ancora a Foggia. E quindi è una battaglia nazionale di liberazione per 60 milioni di italiani. Chiunque condivida questo progetto sarà il benvenuto.